Sì, sì, assolutamente. Ci giochiamo il campionato. Penso che la squadra sta lavorando alla grande da un paio di mesi, insieme ai tifosi, alla società, insieme al Mist. Speriamo di fare l'ultimo spinto finale e di portare a casa questi tre punti per i tifosi e per noi. Sì, sì, è importante. Il Mist ci ha tenuto tutti insieme, di farci allenare alla grande come facciamo sempre queste settimane. Ma queste settimane non dovrebbe cambiare niente perché stiamo lavorando bene da tanto tempo. Aspettiamo solo che un stadio pieno ci dà una grossa mano perché la nostra tifoseria è conosciuta in tutta Italia. Sì, sì, assolutamente. Cambiando ruolo mi ha dato un po' più libertà di attaccare la porta, di mandare i compagni al tiro. Penso che è una cosa che mi piace, però manca l'ultima partita. Questa partita per noi è tutto, veramente. Penso che se qualcuno avesse sei mesi fa che ci giocava l'ultima partita e serviva solo un punto per salvarci, te l'avrei preso subito, quindi non avevo messo la firma. Penso che la squadra, come l'ho detto, stava lavorando alla grande. Prepariamo questa settimana bene. Aspettiamo solo, come l'ho detto, il stadio pieno di andare tutti insieme a vincere questa partita. Grazie.